Per la prima volta dopo tanti anni è con il segno meno che la regione Marche presenta il consuntivo degli arrivi delle presenze turistiche nel territorio regionale, segno inequivocabile di quanto abbia influito nella scelta della località dove trascorrere le loro vacanze l'alluvione da parte di chi poteva usufruire di un periodo di riposo. Seppure toccate marginalmente dal dissesto geologico le località marchigiane hanno sofferto sensibilmente del rilievo che è stato dato alla notizia a livello nazionale. Fa eccezione Fano che invece rispetto al calo di presenze del 3,87% di cui hanno sofferto in particolar modo le strutture ricettive bilancia il valore negativo con un aumento di arrivi del 2,18% cui si accompagna un aumento ancora più vistoso di arrivi e presenze degli stranieri. Gli stranieri tedeschi, polacchi, inglesi, francesi sono aumentati non poco rispetto all'estate del 2022. Questo ha spinto l'assessore al turismo Etienne Lucarelli a convalidare la sua strategia perseguendo una forma di turismo esperenziale. C'è una forte scelta della nostra destinazione con una grande crescita, siamo circa un più 9% del turismo straniero, turismo che come sappiamo arriva dalla Germania, arriva da diverse parti d'Europa. Segno insomma che il lavoro che stiamo facendo e che io dico sempre deve essere un lavoro corale, deve essere un lavoro di strategia dettata dall'amministrazione insieme al tavolo economico, deve essere un lavoro fatto dagli imprenditori che devono continuare a investire nel settore e soprattutto oggi il turismo è sperenziale, guarda la cultura, guarda la gastronomia, guarda all'outdoor, la qualità della vita che può trovare nella nostra destinazione, non guarda soltanto al balneare, stiamo lavorando a questo e con questo dobbiamo spingere una forte promozione, quello che faremo nei prossimi mesi e il dato che ci arriva oggi che in tutto questo lavoro insomma fanno, è apprezzata. Che cosa è più importante? Il numero delle presenze o quello degli arrivi? Dubbiamente il numero delle presenze perché il numero di notti che una persona sta qua ma è fondamentale anche il dato degli arrivi, faccio un esempio, una persona arriva e sta quattro notti di media, ovviamente spende quattro notti quindi il dato delle presenze è molto importante ma avere un dato d'arrivi positivo significa che c'è una scelta della nostra destinazione, poi purtroppo sappiamo quest'anno che con l'aumento di mutui, l'aumento di inflazione le persone sono state un po' meno, il numero degli arrivi ci sta dicendo che questa strategia sta funzionando, adesso siamo pronti a fare una promozione forte nei mercati anche esteri, grazie ai voli che abbiamo che arrivano direttamente in Ancona, siamo pronti a portare le persone nella nostra città e siamo pronti a far vivere ciò che veramente siamo, ciò che è la città di Fano. Si è parlato molto di allungare la stagione turistica, a che punto siamo? E questa la chiave sta qui perché è chiaro che a luglio-agosto le nostre strutture sono già piene, devo dire che i dati ci confermano che abbiamo bisogno di migliorare, anzi di ampliare le strutture, quindi dobbiamo attrarre anche nuovi investitori alberghieri soprattutto che possono dare maggiore qualità anche della proposta ricettiva e poi ovviamente il turismo culturale, il turismo odore, il turismo gastronomico ma come si sta vedendo in questi giorni che ci aiuta a far vivere i mesi di settembre-ottobre che ad esempio con questo bellissimo clima sono stati molto positivi anche ricchi di presenze e anche i mesi primaverili come lo sono marzo-aprile perché sono mesi che possono veramente far crescere i numeri del turismo della nostra città.